cerchio e seno attraverso nt 29 aprile 2023 finché le energie sono integre vorremmo produrre degli apporti in maniera che dopo saranno le guide a decidere laura bene puoi venire qui vicino prego io mi avvicino e tu che fai altrettanto ah che bello che ti avvicino alessandri ah certamente finché siete vivi la vicinanza è terrena poi sarà una vicinanza più spirituale vero più vera più valida in onore o perdonate laura si avvicina ancora un po io ho difficoltà purtroppo metti ecco le tue mani intorno a quelle dello strumento il nostro amato strumento metti le tue mani a copa prego dunque è un dono per te e per le tue sorelle grazie vi accomunerà perché siete tutte e tre interessate alla stessa maniera a questa esperienza e tu fai da portavoce vero si allora potete vedrete che la similitudine chi è che sta scusami prego è stata la mia testa scusa certo perdonami io pensavo fosse qualche entità dispettosa mi piace fare anche a me ogni tanto lo scherzoso vero dunque allora adesso concentriamoci perché sono tre doni identici e ciò significa che vi accomuna l'identità di sentimenti potete anche portarle al collo se volete va bene e sono cose naturali prese per voi proprio da una tribù che li usava come amuleti grazie si ci riesco bene grazie antonello chiudi le tue mani così bene aspetta che si stanno ancora materializzando perfettamente porta un saluto alla tua più piccola sorella lena si a daniela grazie va bene grazie mille ecco poi a tutti i miei ci sono ancora energie si possiamo va bene va bene